Una piccola speranza per salvare il convitto nazionale Cotugno dell'Aquila che rischia la chiusura per mancanza di iscritti esiste e cerca di cavalcarla la CGL Funzione Pubblica che scrive all'ufficio scolastico regionale per chiedere di avviare tutte le possibili azioni compresa l'eventuale attribuzione di un organico di fatto per garantire il diritto allo studio dei convittori e il funzionamento dell'istituto scolastico, una presenza storica in città. Se le cose restassero così infatti il convitto presente all'Aquila da due secoli a settembre non avvierà le sue attività. Sono infatti meno di 16 gli iscritti a fronte del tetto minimo di 40 studenti imposto dai parametri ministeriali. Parametri sui quali però l'ufficio scolastico regionale avrebbe il potere di intervenire. Dopo l'assemblea cittadina del 28 giugno e l'approvazione di una mozione da parte del Consiglio Comunale dell'Aquila aderiscono alle iniziative pro convitto anche i giovani del movimento giovanile di sinistra, i rappresentanti degli studenti del liceo Cotugna e dell'Unione degli Studenti, i ragazzi dell'associazione School in Progress e D-Link, il coordinamento nazionale universitario. Abbiamo fatto una formale richiesta per avere una deroga al numero di iscrizioni previste e quindi questo è l'atto sindacale più, come dire, più pregnante che potessimo fare. Una richiesta fatta direttamente all'ufficio scolastico regionale? L'ufficio scolastico regionale, sì, che volendo ha questo margine di azione. Sul tavolo c'è anche la questione più ad ampio raggio delle aree interne da salvare? Assolutamente, perché noi pensiamo che la situazione del committo sia emblematica di una situazione di impoverimento del nostro territorio, in particolare delle aree interne, ma che adesso chiaramente comincia a riflettersi anche proprio sulla città dell'Aquila. Noi ci batteremo, porteremo avanti questa battaglia affinché si possa risolvere la situazione del convitto nazionale, perché il convitto nazionale non è l'unico problema che abbiamo in questa città, anzi si collega perfettamente con tutto il panorama cittadino. Purtroppo la vicenda del Cotugno, la vicenda delle varie scuole, degli edifici scolastici all'Aquila, la vicenda del convitto, sono tutti sintomi di un disinteresse nei confronti dei giovani. Tutti ci dicono che questa città deve essere a misura di studenti, a misura di giovani, però queste sono sempre le problematiche che riescono.